Questo è il mondo nostro, ci siamo nati. Ci conoscono tutti. Qua bisogna che se ne andiamo da sto paese. L'ho sentito pure io che c'è stato un sacco di pensionati che vanno a vivere all'estero, dice che si capa meglio. Però tu la pensione non ce l'hai. Posso decidere partire pure senza la pensione, no? Oh, io sono il cittadino del mondo! Andiamo, però andiamo. Le Azzorre. Le Azzorre è un arcipelago dell'Oceano Atlantico. È il posto perfetto per voi tre. Si parla portoghese. Cavallo, cavallo. Saúde. Saúde. Io devo fare il trasferimento della pensione. Dove? All'estero. E poi volevo sapere se si poteva in anticipo. No. Ma sai qual è il problema? Che ogni anno per noi poracci va sempre peggio. Ma perché sei un poraccio te, papà? I rischi. Bisogna saperli correre. Bisogna saper credere in qualcosa. Io, per esempio, credo che se mia moglie è uscita, adesso potremmo averci un grappino. mi dispiace un po' che vai. È pure a me. Movie Player ha stilato la classifica dei 100 migliori film prodotti in Italia. Al quinto posto c'è Napoleone del 27. Quarto posto per ossessione di Lucchino Visconti. Terzo posto per c'era una volta il West. Al secondo Rocco e i suoi fratelli. E al primo c'era una volta in America. Siete d'accordo? Fatemi sapere nei commenti. E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. e se vi piace la mia maglietta, in info box c'è il link al nostro shop. Ciao! Ciao!